Ora vediamo una rapida rassegna delle tre principali definizioni di probabilità, cominciando da quella classica, che è quella che è stata usata quando sono cominciati gli studi sulla probabilità. Nonostante i primi elementi per così dire di probabilità si possono far risalire quasi, non dico all'origine dei tempi, ma insomma, la data ufficiale è considerata il 1654 quando Pascal e Fermat si scambiarono delle lettere per risolvere un paio di problemi posti da quello che era considerato un giocatore d'azzardo di quel periodo, il cosiddetto Cavalier de Meret. Eventualmente in un altro video posso parlare in maniera più specifica di questi due problemi. Comunque, la definizione classica dice che se un certo evento E si può verificare in un certo numero finito F di casi o di modi, sul totale di n possibili modi egualmente verosimili in cui l'evento si può presentare, allora si definisce probabilità dell'evento E il rapporto tra il numero dei casi favorevoli all'evento e il numero dei casi possibili per quell'evento. F e n sono due numeri naturali e F è minore uguale di n e allora questo ci permette di dire che la probabilità di un evento E, secondo la definizione classica, è un numero reale compreso tra 0 e 1. Abbiamo poi la definizione frequentista o a volte chiamata anche definizione statistica. Questa è quella che viene usata nelle scienze fisiche, tendendo con scienze fisiche in senso lato, includendo tra queste anche quelle per così dire naturali o biologiche, quando si vuole appunto determinare la probabilità del verificarsi di un certo fenomeno. Allora qual è la procedura? Si ripetono delle prove cosiddette indipendenti. Cosa vuol dire indipendenti? Vuol dire che la prova diciamo numero 3, il risultato della prova numero 3 è indipendente dal risultato della prova numero 2, quella precedente e così via. Sempre nelle stesse condizioni e si registra poi il numero S dei successi di questa prova. E allora si definisce probabilità dell'evento è il rapporto tra il numero dei successi e il numero delle prove effettuate. Allora cosa succede qua? Succede che se n è piccolo f con r non è altro che una variabile aleatoria che può cambiare anche in maniera sensibile a seconda del valore di n. Tuttavia la cosiddetta legge empirica del caso afferma che se aumentiamo sempre più il numero delle prove il rapporto S fratto N tende per così dire a stabilizzarsi. E allora si definisce probabilità dell'evento E il limite del rapporto dove però attenzione il limite non va calcolato nel senso matematico del termine. Perché se lo calcolassimo nel senso matematico del termine dovremmo concludere che il risultato è 0, ma così non è. Sn anche qua sono due numeri naturali con la limitazione che vedete scritta e quindi possiamo concludere ancora una volta che la probabilità dell'evento E è un numero reale compreso tra 0 e 1. infine abbiamo probabilità soggettivista che può essere descritta in questo modo. Allora può capitare di dover prendere delle decisioni che comportano un guadagno o una perdita e nel momento in cui dobbiamo prendere queste decisioni non siamo certi delle loro conseguenze. Per esempio quando si acquista il biglietto di una lotteria non sappiamo se vinceremo o perderemo oppure quando si fa una scommessa anche qui non sapremo se la scommessa si avvererà oppure no. Nel primo caso dobbiamo sborsare del denaro per acquistare uno o più biglietti e quindi potrebbe essere che o vinciamo una somma notevole oppure perdiamo il denaro che abbiamo speso per acquistare i biglietti. Ma era analoga nel secondo caso. Versiamo la posta del gioco e o vinciamo un multiplo di quanto abbiamo puntato oppure perdiamo tutto il denaro puntato. In questa situazione la probabilità di un evento E è la posta P che un individuo è disposto a pagare in una scommessa e la somma di denaro che riceverà nel caso in cui l'evento si verifichi. Quindi la probabilità è il rapporto tra questi due numeri P diviso S. E dato che P soddisfa la disequazione che vedete ne consegue che per l'ennesima volta si può concludere che la probabilità dell'evento un numero reale compreso tra 0 e 1. Il video è finito.